Musica Musica Ma sempre nell'evento a quello? Ah ok Che non è per come sei seduto Pensavo fossi avvenuto Ah dici poco appendiciute Pensavo fossi quello, non è peggiorato nel corso di qualche ora quindi non è peggiorato Bravo, chiudi la linea, chiudi la linea Può essere pure la posizione Stasera cominciamo a mangiare bene, no, sono dentro proprio Dentro proprio Calmo Dio, calmo Dio E non era contente quando lo andavano adiamare Tu, ammette Qua Che cosa, no, no Fai ogni cosa lo caglio, tu ogni cosa Io faccio una cosa Tu dici e manda Nooo Che cosa, no! Che cosa, no, che cosa, no Che cosa, no, che cosa, no E andiamo a prende Mi fai creco A me mi ha detto un bravo Eh vabbè No, no, no No, no, no No, no, no Bravo, bravo 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 Grazie. Grazie.